Anfaccio a tutti, signori e signori, qui calmo e bentornati su un nuovo video Oggi vi porto un nuovo gioco, ragazzi, che vi metto, ho visto da PewDiePie E' da cazzo stupendo, ho visto che mi sono ammazzato e risato, ho detto scarichiamolo Tanto è gratis e giochiamoci, signori, Deadbolt, vi lascio il link del download in descrizione, è free Almeno così, se volete giocarci anche voi, ci giocate, iniziamo subito Attenzione, prendiamo a corte Scusi, oh porca, maccia la puttana Guarda, vengo là Scusi, sono andato a prendere, a portare le pizze Ma che pizze, non faccio le pizze Attenzione Signori Cazzo, non so come si spara Non so come si spara, signori Ecco, abbiamo capito il primo caso Scusi, pizze a domicilio Ecco, ci casca sempre, incredibile Ma porca troia Mi giuro che Pam Ah Oh Pah C'ho una mira infalibile Oh ma qua Ah Toto Pizze Ci casca sempre questo Adesso è stupido però, amico mio Madonna Madonna signori Vedete va Signori ma che trick sono questi Che è sta cosa Quella mia se non mi avevo posto lì Ma che è Sono invisibile al bagno Che è sta cosa Chiudi chiudi Scusi Scusi si può? Scusi 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 Ah Ah Cazzo Troia ho finito i proiettili Dice vengo così eh No non posso Scusi 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 Qui? Scusi Aspetta 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 Asciuga Scusi 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 Ah avete visto che m'ha fatto? Ma mi ha spezzato Scusi Scusi Mi fa ammazzare Mi fa ammazzare Mi fa ammazzare Così Il motivo per il quale Quello davanti si trova qui su Cioè veramente è una figata sta gioco Perché ci fa stato il tempo Che io con un colpo Cazzo muoro e loro non faranno mai Scusi Un uomo delle bizze Che faccio Ah Professione assassino Facci scherzetti ai campanelli Scherzetto Ah Ah sto qua Ah Sto qua Ah Merda I tuoi pilattucci Non lo sapevo questo Ero da tutto convinto Non ho letto Quello dell'enemis Cazzo Dai su Ti vado giù Dai Permesso Permesso Si può Dai su Veloce 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 Dai In fretta e furia Questa Questa Ma cazzo ma Possibile Io mi sparo Ho messo Ero risalito Ero risalito Avevo fatto la strategia Ero fatto il coso Ok Grazie ambulanza Brava Si può fare Due modi Uno Piamo questa Basta Signori Qua Tasci qua Cioè E' inutile che parlo Anche Proprio inutile che parlo E' proprio inutile che parlo Accuracy 54 Essos 23% Time 9 minuti Ma i coglioni Non so 9 minuti Vedi che sei incazzato Ce l'ho scritto qua il time Che sto registrando Le 6 minuti Per essere Tu continui Attenzione Ah Missions Che penso io Che pensare Ma in alto Scusi Sbagliato Sbagliato Scusi Sbagliato 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 No ho sbagliato La dovevo solo bussare Mani in alto Polizia 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 per due Non ho più colpi Non ho più colpi Non ho più colpi Come cazzo faccio Non ci posso credere Non ci posso credere Non ho più colpi Eh certo Di işin merda Taci tua Taci tua Ma questa è quella che ho scelto Dove sta Dove sta Perfetto Perfetto Ah ragazzi Ah ragazzi Il gioco è fighissimo Però Mi c'è stato Io drogato Perfetto 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 Si sta muovendo Si sta muovendo Lo vedo Guardatelo Guardatelo Come va Zitto Zitto La vedete La vedete Da qua Le mortacce Lui Mentre vengo proprio sopra A te Spacco La faccio Signori Io Dico Ma che gioco fa Ma se giochi O che ci gioco fa Tanto già so come vanno a finire Già lo so come vanno a finire Io vinco sempre Come cazzo Ah dove ritorno indietro Proprio la macchina Ah Sage Quaker Return to your car Ragazzi vi ricordo che questo Allora ragazzi Il gioco ve lo lascio in descrizione Per come più video Può andare bene così 12 minuti Comunque vi ho mostrato un po' il gameplay Io spero che vi sia piaciuto Questa alternanza di video Ovviamente Questo pomeriggio c'è stato Quello di LOL Quando farò questo tipo di video Non vi lascerò mai Senza quello di LOL Se vi è piaciuto questo tipo di video Ditemelo che Vi Potrò comunque fare No una serie Ma altri 2-3 episodi Su questo Gioco ce li potrei fare Quindi se vi è piaciuto Vi invito a lasciare un bel like Per farmi capire Se vi piace appunto O meno Commentate Per farmi capire appunto Se vi piace o meno Sto rivedendo una maria di cose A faccia a tutti Ragazzi 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 Buon bello Grazie a tutti Grazie a tutti